Ma impostato alla partita no, sapevamo che avevamo fatto una stagione grandiosa e dovevamo concludere al meglio, sapevamo la nostra forza, le nostre possibilità e sapevamo fondamentalmente che avremmo vinto questa finale e che l'avremmo portata a casa. Gli obiettivi sono fare di nuovo una grande stagione, magari rinforzando un po' la squadra con qualche innesto e dare il meglio, vedremo come sarà, il livello si alzerà e daremo sempre il meglio per fare un'altra grande stagione.